50.000 euro, questa la cifra stanziata dal comune di Capannori, per imborsare fino al 60% i costi che i cittadini dovranno sostenere per smaltire l'amianto dalle proprie abitazioni e dalle pertinenze, ad esempio un garage o una rimessa. L'importo massimo del contributo sarà di 1000 euro e verrà erogato fino ad esaurimento dei fondi e in ordine cronologico di presentazione delle domande a coloro che intendano rimuovere o sostituire l'astre di cemento amianto usate per la copertura di edifici, ristrutturare o demolire strutture rivestite da amianto previa rimozione dello stesso, oppure eliminare rivestimenti isolanti sempre in amianto posti intubazioni, cadaglie, canne e fumari e serbatoi, pareti e soffitti. Gli edifici oggetto dei lavori dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni urbanistico edilizie. Per facilitare l'accesso alle agevolazioni inoltre è stato stabilito che nella maggior parte dei casi saranno sufficienti solo delle autocertificazioni da allegare alla domanda. Il contributo comunale non è cumulabile con altre agevolazioni per cui il beneficiario non deve ricevere per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento e facilitazioni, siano essi europei, statali, regionali o di altra natura. Il bando che sarà pubblicato dal prossimo 17 luglio e fino al 15 settembre con i relativi allegati è scaricabile sul sito del comune www.comune.capannori.lu.it Grazie Grazie Grazie